Musica Signori e signori, buongiorno, benvenuti in Piazza Palazzo di Città a Torino, nel cuore pulsante della grande metropoli del nord, sotto lo splendido palazzo del municipio, per la festa di San Giordi. Tutti i librai di Torino sono qui riuniti con le loro proposte, le loro offerte, la loro professionalità, la loro forte identità, per fare festa insieme ai lettori, ai non lettori, ai cittadini, ai bambini, ai grandi. Ed è davvero un momento di festa. Ci saranno circa 40 gradi, per cui tutti noi librai abbiamo uno splendido cappellino. Questa festa culmina nel centro della città, ma è da una settimana e proseguirà ancora per due giorni, in tutti i luoghi della lettura, questa festa. Si leggerà nelle scuole, nelle biblioteche, nelle librerie, per le strade, nei negozi, ci saranno presentazioni. E il tutto si concluderà sabato, al circolo dei lettori, con una presentazione di un libro, per ricordare il settantennale della liberazione. E poi alcune librerie rimarranno aperte per festeggiare ancora di più questa festa, con una merenda tutti insieme, condivisa. Al prossimo episodio